A volte purtroppo si verifica anche il caso che i bambini vengono portati per una febbre banale al Maier negli orari notturni perché magari ci ha fatto fatia a portarli alle 3 di pomeriggio perché si va a lavorare e quindi si preferisce portarli all'ospedale alle 9 di sera, non perché ci sia una necessità di attivare alle 9 di sera quel servizio ma perché la presenza dell'ospedale, quindi non sempre il dato della presenza in orario notturno corrisponde all'insorgenza di un bisogno in orario notturno.